La salita al colle per ricevere l'incarico dal Presidente della Repubblica Mattarella. Un'ora di colloquio per passare in rassegna alla lista di ministri. L'accettazione dell'incarico senza riserve. Giorgia Meloni sarà la prima donna a capo di un governo nella storia del Paese. 19 uomini e 6 donne comporranno il nuovo esecutivo. Ministro degli Affari e Iesteri e della Governazione Internazionale, Onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vice Presidente del Consiglio. Ministro dell'Interno, Dottor Matteo Piantedosi. Ministro della Giustizia, Onorevole Carlo Nordio. Ministro della Difesa, Onorevole Guido Crosetto. Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Senatore Matteo Salvini, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vice Presidente del Consiglio. Un augurio di buon lavoro al nuovo governo è stato rivolto dal Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha rimarcato quanto la chiarezza del voto e il difficile contesto economico e internazionale abbiano favorito la rapida formazione del nuovo esecutivo. Dopo il giuramento previsto alle ore 10 di sabato, la cerimonia della campanella, poi si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri. Grazie.